Siamo notati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, questa diciottesima domenica del tempo ordinario e ci sottopone l'inizio sviluppato del discorso sul pane disceso dal cielo che Gesù fece nella sinagoga di Cafarnao dopo il miracolo della moltiplicazione dei panni. È un discorso molto lungo che ci terrà compagnia per diverse domeniche e che serve fondamentalmente a farci riflettere su una realtà fondamentale della nostra esistenza, che è questa. Noi siamo uomini, siamo esseri umani, non siamo semplicemente, perdonatemi l'espressione, animali. Cosa significa questo? Gli animali hanno una vita terrena, mangiano, bevono, si riproducono, si divertono e poi muovono. Gli uomini cosa dovrebbero fare? Alcune cose simili a quelli che fanno gli animali, perché noi mangiamo, beviamo e ci dobbiamo distendere, d'accordo? Popoliamo il piano della terra e andremo incontro a sole e alla morte. Sotto questo punto di vista è simile alla nostra vita, quella degli animali. Ma è tutto qui, punto interrogativo, che non sia tutto qui, noi lo capiamo assoluto da una cosa, no? Gli animali uomini, diciamo così, cosa fanno in più rispetto a quello che non fanno gli animali animali? Cosa faccio? Cosa sto facendo io adesso? Sto parlando, giusto? Voi mi capite quello che sto dicendo? E sto parlando perché penso, d'accordo? Si spera che pensi in maniera decente, d'accordo? E perché penso? Penso perché a differenza degli animali ho quello che la tradizione non soltanto l'insegnamento della Chiesa ma anche filosofica ha chiamato o l'anima. Capite? Un sacerdote viene mandato in una comunità parrocchiale, lo sapete perché? Questa è una cosa che si siano attiando. Per promuovere la gloria di Dio, la conoscenza di Dio e per aiutare le persone che gli sono affidate a condurre in salvo la propria anima, la gloria di Dio e la salvezza delle anima. Queste cose un tempo erano molto, molto, come dire, chiare, vissute, ottimo, sono un pochino meno. Com'è la legge della vita della nostra anima? Lo sapete che la legge della vita della nostra anima è molto simile al nostro corpo. Voi sapete che il nostro corpo ha una data di nascita, tutti quanti sappiamo che ha una data di nascita, no? Ecco, veramente ha una data di concepimento e una data di nascita e purtroppo il nostro corpo non mi voglio andare per storto la domenica, eh? Avrà una data di morte dopo essere vissuto e però cresciuto, d'accordo? Io adesso ho quasi 47 anni, se uno vede le foto di quando c'avevo un anno, se le guarda bene si vede che quel bambino sono io, però insomma sono un pochino differente. A un anno non parlavo, a un anno non facevo il break, non potevo ancora fare il break, d'accordo? Quindi non avevo queste stesse sembianze fisiche, ma assomiglia un po' il bambino Leonardo ma adesso sono un pochino differente. E guardate che la nostra anima è la stessa identica cosa, ha una data di concepimento, ha una data di nascita, poi può crescere e diventare adulta o rimanere una bimba. Sapete cosa non c'ha l'anima, a differenza del corpo? Non c'ha la data di morte? Questa è l'unica differenza, perché la nostra anima è immortale, non morirà nel nostro corpo. Questo, ripeto, lo sapevano anche i filosofi, non c'è bisogno di essere credenti e cristiani, però si capisce in maniera abbastanza semplice. Qual è la differenza fondamentale tra noi e gli animali? secondo voi un animale, se vede vicino a sé un cane, supponiamo, un cane morto, il cadavere di un cane, secondo voi un animale, quel cane capisce che il tuo cane è morto, secondo voi? No. L'uomo usa, comincia a fare, sente che è musa, dice ma lo guarda un po' e poi via se ne va. Non è che capisce che quel cane è morto e pensa poi, dunque questo mio amico è morto, quindi mi sa che poi un giorno morirò pure io. Se noi vediamo invece un essere umano morto, noi lo capiamo e quindi è morto, d'accordo? Vi facciamo dire una bella messa e sappiamo tutti quanti, anche se non ci vogliamo pensare, adesso abbiamo una parentesi con una piccola facezza, noi non ci vogliamo pensare che dobbiamo morire, ma lo sappiamo che dobbiamo morire. Qui al sermone è stato girato un cilesta che piangere, giusto? Controisi e Benigni. Benigni è ancora vivo, Troisi purtroppo no, ma vi ricordate, proprio non ci resta che piangere, se non mi ricordo male la battuta che fece Troisi, quando gli dicevano ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, aspetta che ora non lo scrivo, la battuta per esorcizzare l'intenzione della morte. Allora, ovverai ci dovessi, drammaticamente qualche tempo dopo aver girato il corpo sul sermone da prematura, no? Allora, perché Gesù fa il discorso l'intenzione, la mamma di che cosa vi preoccupate voi? Dice a noi oggi, del cibo che perisce o di quello che dura per la vita eterna? Cioè, cominciamo a dire, la data di consentimento della nostra anima, sapete quando è? Quando è la data di consentimento della nostra anima? C'ha due fasi, voi dovete sapere, guardate che questo non è uno scherzo, eh, ciascuno di voi che mi sta ascoltando, nessuno escluso, e questo vale per tutti i membri della razza umana, presenti, passati e futuri, sapete quando è stato pensato da Dio, pensato, pensato come individuo particolare? La tua anima, pensata da Dio, è solo la tua, non ce ne sarà mai nessun altro uguale, non ce n'è mai stata nessun'altra, l'anima mia, anima di viaggio, l'anima di Marcello, benvenuti a proposito di quanti gruppi folcloristici, eccetera, eccetera, sono un unicum, non ci sono mai stati, sapete quando Dio l'ha pensata? Da tutta l'eternità, e sapete quando Dio l'ha creata? Dio l'ha creata quando i due gameti, il seme di papà e di mamma, sono diventati uno zigote, nell'istante del concepimento, quell'anima da sempre pensata a Dio con un atto della sua volontà viene creata e viene infusa, sapete come ci insegna la Chiesa? Che appena infusa contrae il peccato originale, quindi l'anima concepita ha bisogno di nascere alla grazia, vediamo che questo è facile, quando nasce un'anima alla grazia? Che giorno? Il battesimo, adesso riprendo un'esultazione di Papa Francesco, chi di voi alzi la mano, anzi meglio di noi, se no prende l'infarto, conosce la data del proprio battesimo? Io sì, 23 settembre 1972, la mia santa mamma aveva imparato dalla mia santa nonna che i bambini si battezzano subito, io sono nato al 18 settembre, cinque giorni dopo giorno sono stato battezzato, ma io questi giorni ho più la data del battesimo che la data di nascita, quindi se volete fare contento, vadami gli auguri, 23 settembre, non il 18, perché la data della nascita sulla terra comincia il conto alla rovescia e la data della morte, che ancora non lo so, ma la data di nascita della mia anima comincia la data di nascita per la vita eterna. Ho quasi finito, mi rimangono due minuti e mezzo, se vogliamo rimanere, ed è qui sempre di Paolo Francesco, attenzione, vi faccio una domanda, il nostro corpo cresce, giusto? Per crescere dobbiamo dargli la mangiata, per diventare bravi spandiratori dobbiamo allenarci ore e ore al giorno, per diventare professori dobbiamo studiare, per diventare predo dobbiamo studiare, per diventare pittori in teologia dobbiamo studiare ancora depresorio di candaggio studiato, quindi ci sono delle leggi di crescita della vita del corpo. Oh, e la nostra anima, che è nata il giorno del battesimo, secondo noi cresce oppure no? Non rimane sempre uguale? Cresce oppure cresce? Finito il battesimo è finito tutto? E no, mi faccio una domanda, no? Secondo voi, conosciamo tutti quanti Padre Pio, facciamo il santo più famoso del mondo, lavate da tutti i colori Padre Pio, d'accordo? Quante preghiere ha fatto, quante messe ha detto, c'era di stigme, ha fatto un sacco di cose. Secondo voi, paradiso, dopo la morte, l'anima di Padre Pio sta allo stesso livello, scommiamo, di un povero uomo che ha fatto una vita lontana da Dio, d'accordo? Non è andato mai a missa, non ha mai fatto una comunione, non ha mai fatto una preghiera, magari non si è sempre comportato bene, non so, si è separata, ha fatto tradire una moglie, a bestemmia, tutto quello che fa male, immagina tutte le cose, poi, poco prima di morire, insipente, chiede perdono a Gesù, invoca con il cuore la sua misericordia e secondo voi Gesù lo perdonerà o non lo perdonerà? Gesù lo perdona. Ma, attenzione, secondo voi l'anima di questa persona, il paradiso, sta vicino a Padre Pio, gode Dio ed è felice nella vita eterna tanto quanto Padre Pio? Io non vi rispondo, pensateci voi. Allora, se io in questa vita non ci penso mai a mia anima, non vado mai a messa, adesso voglio fare la predica della domenica, per farvi capire un concetto, no? Non prego mai, non mi confesso mai, non faccio mai la comunione, non faccio neanche un po' di opere buona, non sto lontano dai peccati. Che succede? Che la mia anima rimane come era giorno del battesimo e ogni giorno che passa è tempo perso. Questo, se io credo, influisce nella vita eterna, capito? Allora, perché Gesù dice qual è la cosa più importante? Credere in colui che ha mandato. Allora, le domande che ci portiamo oggi è, uno, tu ci credi che Dio esiste? Veramente? Non a chiacchiere. Ci credi che Gesù Cristo che ha detto queste cose? È Dio? Punto interrogativo. Ci credi che nell'ostia consagrata è presente in Lui e quello è l'alimento della tua anima e se tu quella ostia non la prendi mai, attenzione che non si può prendere quell'ostia insegnata a Chiesa senza stare in grazia, eh? Non fate mai una cosa di questo genere. Prima la confessione, poi la comunione, ma dopo la confessione si può e si deve e ci si deve accostare alla santa comunione. Tu ci credi che senza quella cosa lì la tua anima non cresce, languisce e se tu per tutta la vita sei stato lontano da lì, ammesso che raggiungi la salvezza, perché comunque ci deve essere il ventimento dei tuoi peccati, non è detto che ci sia l'ultimo momento, comunque avrai una vita eterna molto meno bella di quella che ci avrà un padre Pio. Io dico, conviene ragazzi carissimi, giocarsi tutto che quanto dobbiamo stare su bene la terra? Trent'anni? Quaranta? Cinquanta? Facciamo così, cento anni. Ma capite cosa significa l'eternità in confronto a cento anni? Cioè, io mi lascio solo con questo pensiero. È da sciocchi non confrontarsi con queste cose. I miei parocchiani, chiudo questo giappone tempo massimo, sanno benissimo e lo ridico, d'accordo, qualcuno si scandalizza, che io lo dico mai ai miei parocchiani, perché non viene ammessa la domenica? Perché ci devono arrivare da solo. Perché io i miei parocchiani li devo trattare di persone intelligenti e adulte. Pensare a queste cose, cioè pensare alla tua vita eterna, quanti queste domande, è obbligatorio per una persona che sia adulta e intelligente e tu in coscienza devi darti delle risposte. Cioè, è brutto, capito? Perché è un figlio di ammesso. Ma figlio mio, se tu non capisci che questa è la vita tua, chiaramente ti assumi la responsabilità di quello che vivi, perché non sarà soltanto un problema del paradiso, ma anche la vita che vivi qua giù non sarà bella e felice. Io questo lo so benissimo. Io potrei stare una settimana senza mangiare, mettetemi alla prova che non ci vedete, ma un giorno senza messia non ci sto, manco morto, capite? E non ci sono mai stato. Ma non perché sono virtuoso, che mi dice, oh, quant'è virtuoso. No, perché sono moromale, capito? Perché vivi. C'è la salvezza della mia vita, capite? Se il giorno non mangio, ho un po' di fame e mangerò domani. Se la settimana non mangio, o meglio che se sono grassato, snellisco un po' tutta salute, se si levano le tossine. Certo, se non mangio mai, ma l'anima è più importante del corpo, per me. E queste sono considerazioni e riflessioni che, al termine della Santa Messa, in privato, ciascuno di noi deve fare. Perché la vita appartiene a noi e la viviamo così come scendiamo di viverla. Il Signore non forza nessuno, ma invita tutti quanti a riflettere, perché possiamo dare alla nostra esistenza la direzione giusta. La direzione giusta è nulla, ma dobbiamo riconoscerla come tale e liberamente abbracciarla e scenderla. chiediamo alla Madonna che in questo ci aiuti e vi auguro a tutti di comprendere e scoprire quanto è bello stare con Gesù, quanto è vero che Lui è Dio e il nostro Salvatore, quanto qui, quello che sto per fare tra poco, c'è la nostra vita e la nostra gioia terrena e l'anticipo della nostra gioia celeste. Siamo notati Gesù e Maria. Sempre siamo notati. Grazie a tutti.